L'Ocse ha avvertito che lo shock per l'economia e gli standard di vita causati dalla pandemia di Covid-19 e senza precedenti avrà effetti a lungo termine. Il PIB italiano è stimato in caduta libera fino a meno 14% nello scenario peggiore, cioè davanti a una seconda ondata in autunno. Nello scenario di base invece il crollo del prodotto interno lordo scende dell'11,3% quest'anno, ma esplode il debito pubblico in salita del 170%. Per districarci sui numeri abbiamo parlato con il segretario generale dell'Ocse. Prima di tutto stiamo parlando di meno del 6% dell'economia mondiale nel 2020 in caso la pandemia non ritorni. Se dovessimo invece avere una seconda ondata stiamo dicendo che ci potrebbe essere una contrazione del 7,5% o forse anche di più. Dipende se ci sarà poi una ripresa progressiva oppure un'impennata. Nel caso di una seconda ondata di coronavirus, si diceva, la Francia potrebbe essere quella messa peggio. Forse anche per questo l'esecutivo transalpino ha deciso di rivedere al rialzo gli interventi economici. Anche negli USA però la situazione è complicata e il paese si prepara al voto per eleggere il presidente. A novembre le stime segnalano rispettivamente meno 8,5% e meno 7,3% rispetto al più 3% promesso da Trump. Oltre ai problemi economici tuttavia ci sono anche quelli sanitari e il modo in cui i vari paesi cercheranno di arginare le problematiche correlate. Continua Gurria. Il futuro dell'Europa è l'integrazione. Con un'Europa integrata staremmo meglio, il livello di benessere sarebbe aumentato. I sistemi sanitari non sono di competenza della Commissione europea, sono la responsabilità di ciascuno dei paesi. Quindi in pratica hai a che fare con politiche diverse e modi diversi di affrontare diversi modi in cui leggi i numeri e reagisci ai numeri. Alla fine però, se hai un approccio abbastanza costante, puoi avere anche un risultato abbastanza generalizzato. La speranza dunque è quella di arrivare a un vaccino per poter evitare lo scenario peggiore.